Il numero è un essere del piano spirituale, ha le sue leggi particolari di costruzione e devoluzione e il suo studio è uno dei più importanti che possa perseguire l'occultista. Ma prima di affrontare questo studio è necessario fare certe importanti distinzioni. La prima è di distinguere lo studio quantitativo dei numeri, tale quale è perseguito dagli attuali matematici, dallo studio qualitativo, come era perseguito nei centri iniziatici dell'antichità. Questa nota è del resto generale per tutto quanto concerne l'occultismo. Il contemporaneo sorride al pensiero che il numero quattro potrebbe agire come un essere vivente nel piano delle idee forze o anche che rappresenti nel mondo delle leggi una chiave che apra molte porte ancora chiuse. La seconda distinzione da stabilire è di non confondere i numeri, che sono degli esseri, con le cifre che sono i loro abiti. Un uomo vestito di verde, giallo o nero è sempre lo stesso. Un numero figurato con un carattere cinese o un sanscrito o romano o tipografico attuale è sempre lo stesso. Ora, la questione cifra ha imbrogliato molto spesso la questione numero. Infine, l'ultima distinzione da stabilire è che lo studio dei numeri abbraccia molteplici adattamenti, è un vero mondo intellettuale. Numerosi autori hanno dedicato le loro veglie a questo studio. L'antico libro cabalistico Sefer Yetzirah tratta dei numeri e dei loro rapporti analogici. Tutte le scuole derivate dai pitagorici e dai neoplatonici seguono la stessa via. Cornelio Agrippa, nella sua filosofia occulta, consacra quasi tutto un volume ai numeri studiati qualitativamente e nelle loro corrispondenze. Più vicini a noi, Luclo de Saint-Martin e Eckhart Sousan hanno lasciato profondi studi su questo argomento. Eliphas Levi e Stanislao de Gaeta, come ho fatto pure io a proposito del tarocco, abbiamo affrontato questo problema. Ci accingiamo a provare a mettere un po' d'ordine in questo studio dei numeri. È un'introduzione alla lettera degli autori che cercheremo di stabilire. Un po' di chiaro nelle tenebre. Tale è il nostro scopo. Per sforzarci di essere chiari procederemo a tappe. Lo studio dei numeri, infatti, è così complesso che, se si vuole fare nello stesso tempo della filosofia, del calcolo e degli adattamenti analogici, tutto si imbroglia e diventa oscuro. Dunque, dovremo ritornare parecchie volte sullo stesso soggetto, ogni volta con maggiori particolari e così potremo affrontare successivamente i diversi adattamenti utili alla conoscenza.